Siete spacciati? Sfida epica? 9 HP contro 9 HP Ciao a tutti squali e pesciolini Sono MamiTD dell'ItalianSharks E vi do il benvenuto in questo terzo episodio Su A-Monster Anche chiamato Monster Pack Insomma chiamiamolo i Monster E tagliamo la testa al toro State vedendo qualcosa di strano Nello schermo? C'è un personaggio che si sta Lavando le ascelle Che stai facendo? Mi sto lavando le ascelle Perché ti lavi le ascelle? Perché è bello Sei puzzolente Aspetta che ti illumino con la torcia umana Guardalo che si lava Ma che schifo ma c'hai pidocchi Mi fa il schifo Fammi allontaniamoci da questo brutto ceffo Comunque ragazzi Mario vuoi vedere come Come tu svieni Cioè? Guarda 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 Aspetta guarda Aspetta aspetta Guarda un po' guarda un po' guarda un po' Guarda un po' Noo maledetto bastardo Noo Noo Dove l'hai preso? Dal safari? Sì Che culo Che stronzo Ha preso mister 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 Bellissimo quel pokemon Ragazzi mi ha preso Mister mind Dal safari Questo maledetto Comunque voglio dare Una comunicazione A tutti quanti Anche se vedete Server full Siete spacciati Il solito culo rotto Però funziona ragazzi Voi cliccate per entrare Perché vi fa entrare E potete venire a giocare con noi Potete chiedere l'amicizia Sia a me che siete spacciati Nickname Mamididi E siete spacciati Mandateci l'amicizia Per mandare l'amicizia Andate qua su freehand Dovete stare in una città Ad freehand E scrivete Ciccio cappuccio Anzi Scrivete Mamididi Oppure scrivete Siete spacciati E fate search Vi trova E a me aggiungete Detto questo Vi dico un'altra cosa Mi dovete dare energia Se no vi mando a calci Nel sederino Oh è pure a me Oh è il visore Pure a me Pure a lui Ah comunque Se sentite siete spacciati Ogni tanto basso È perché Lo sto per menare Perché non ho capito Perché C'ha il microfono Che gli fa le pizze Non sto basso Sto bene così No c'ha il microfono Che ti fa cagare Quindi scusate Se lo sentite basso Ma Non posso farci niente È un deficiente Così Ce lo teniamo Detto questo Detto questo ragazzi Io oggi voglio sfidare Ufficialmente Siete spacciati Non me ne frega niente Che c'hai Mr. Mime Ti farò penare Le pene Sì ma tu C'hai poco Su popolo Aspè fammi prendere La scuola più Prendi la Ho trovato pochina Ho trovato pochina Ho trovato pochina Oh mio dio Ho appena trovato Che culo di merda Che culo Mi fai messo La scuola più poche Oh Sì ma Ho trovato Vileplume Ma che culo oggi Oh mio dio Non ci posso credere Ne ho trovati due Di pokemon oggi Oh mio dio No vabbè ragazzi Ho trovato Un vileplume È un pochina Dove cazzo Me li ha messi Così pochino Non Non te li ha dati Mario Cos No 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 Sì perché Sei stupido Quindi non ti ha dati No Ho perso i pokemon Sì Ho perso i pokemon Perché non avevo Salotto nell'inventario Anche No ragazzi Li ho persi Ma vaffanculo Ho persi di merda Il gioco Di schifo Ti ammazzo Ho perso Vileplume Pochina Ma non è giusto Non è giusto Beh ragazzi È ufficiale Ho trovato due pokemon In questo video Ma nell'istante Subito successivo Li ho anche persi Quindi Ovviamente Succedono queste cose Solo quando C'è siete spacciati Ma va bene così Però Però Io ho un po' di pokemon Di grado B Tutti questi Parasect del cazzo Che vorrei Scambiare Però fatemi vedere Un attimo Quali posso scambiare E quali no Ma si Li scambio a cazzo di cane Ma chi se ne frega Ti scambio a te Ti scambio a te Ti scambio a te Ti scambio a te Exchange Vediamo che cosa mi da Vediamo un pokemon Di grado B Uuuuh Lictong Bellissimo Bellissimo Questo Questo è quello che ti slinguazza Siete spacciati Questo ti slinguazza Però non lo userò Contro di te Perché di livello 1 Potrei fare una figura Veramente Veramente brutta Veramente brutta Ma detto questo Mi preparo la squadra E sfidiamo questo Diciamo allenatore Diciamo Di pokemon Si Ce li avevo nella mail Si Non li ho persi Claim Claim Ho preso un pokemon Di grado A E un pokemon Di grado D Si No mio dio Ragazzi Allora in questo video Ho perso i pokemon Li ho ritrovati E li ho No Li ho presi Li ho trovati Li ho persi E li ho ritrovati Madonna sono felicissimo Madonna posso distruggere Siete spacciati Madonna Ragazzi Mi ha trovato Si sono io Sono io quello Mi ha trovato Siete spacciati E io mi sono creato la squadra Non ve la faccio vedere Perché ve la faccio vedere Nel combattimento Vi faccio vedere Come si fanno le sfide Allora io clicco Sulla testa di minchia Dove sta Eccolo qua Fai challenge E in basso a sinistra Vedete a me viene un conto alla rovescia In basso a sinistra Ci sono le due spadine Che si muovono Forse voi non le vedete Perché io sono Cioè capito Ehm C'ho la telecamera Allora Ah ora me la scelgo la squadra Ok Ma io non voglio mettere E come si fa? Eh scegliti i pokemon Da mettere in squadra Quindi ora mi E dove stanno i pokemon Ah eccolo Ah potete mettere solo i pokemon Di livello 10 o superiore Vabbè Io non ho problemi Nemmeno io Ti farò un culo quanto una casa Qua sai che devi fare Le banane Ma che le banane Ma stai zitto le banane Ragazzi questo pokemon Non so come si usa Neanche questo Neanche questo Ma mi piacciono troppo usarle Ok ce le ho Io sono pronto Tu quando sei pronto? Oh 15 secondi Devi cliccare su prepare 3 Che sono quei pokemon Che cazzo di pokemon Che cazzo di pokemon C'hai? Ma cosa? Allora Intanto Questo war tortor Te lo faccio Te lo faccio Ti faccio Male male Ma Insomma Oh cazzo Oh cazzo Mi fa male lui Nooo Vai bellosom Scelgo te Prendevi a quel posto Mi dispiace Oh e no Non puoi cambiare il pokemon così Chi mi mette? Che cos'è sto coso? Morto Mi dispiace Hai messo Cazzo Oh mio dio Morto Mi dispiace Morto Mi dispiace Dai Dai che muore Pure mister mime Dai 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 che muore Morto Ma che cazzo è? Send a pokemon From your bag No 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 Uuu Ciao Vediamo Chi posso usare Conto di lui Lui E mi dispiace Tu bellosom Non lo sai Usare come si deve No Lo sai usare come si deve Vabbè Ma io c'ho questo Che è La debolezza Mi dispiace per te Mi dispiace per te Ma morirai Malamente Il mio farfetch Ti massacrerà di botte Non voglio cambiare pokemon Eh ciao artortle Eh Tela devi vedere un attimo Con l'amico mio Eh sì Prova a fargli qualcosa Questo qua Ti faccio un culo Così ti faccio Ah pure il cazzottino Mi dai Morto Che cazzo è? Cascù Cioè non ha niente sta cosa Ho vinto Noo Vabbè che schifo Non ci posso Se vuoi ti do la rivincita Mi tolgo quel pokemon lì No no Un secondo Ok ragazzi è ufficiale Siete spacciati Ha bisogno di una rivincita Perché poverino Cioè io sono il re dei pokemon Nella pizza non faccio schifo Ma qui Cioè Ne parli Parliamone Ma devo togliere Ma devo togliere quel pokemon lì No 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 Posso combattere con quel pokemon lì? Sì vai vai Oh Si sente forte Oh Prenderai tante di quelle botte Siete spacciati Che tu non hai idea Oh Ho avuto Dini Aspetta Eh sì ma sei un pirla Cioè devi accettare Ok ci rifacciamo la squadra Allora Sì 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 La modifichiamo Perché ormai lui sa I miei pokemon Quindi Dobbiamo un attimo Cambiare per creare l'effetto sorpresa Anche se effettivamente Non glielo ho fatti vedere tutti Tutti eh Però 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 Cambiamo Ho fatto le mie modifiche Io sono pronto Siamo pronti? Prepare Dai Vai siete spacciati Che ti faccio un culo Oh di nuovo il tuo War Turtle E che cosa me ne fai? Come hai fatto a portare A livello 21 Bellosso Un pezzo di merda No Sì è un pezzo di merda Vabbè vediamo Hai portato bellosso Ma a livello 21 Oh È un altro quello Quanti bellosso non c'hai? Tre Come tre? Sì E come fai ad averne tre? Nel safari È vero? Che culo Guarda Guardalo 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 Lo sapevo Lo sapevo io Lo sapevo Lo sapevo Lo sapevo Interessante questa cosa E mo? Mo io sono bloccato Non posso andar via da qui A meno che non uso A meno che non uso lui Però dovrebbe essere confuso Anche lui Oh 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 Sei confuso Ah ti sei picchiato da solo Prendilo a quel posto Dai ammazza lì quel bellosso non di merda Ammazza Ma porca miseria No Che è sto coso? Chi è? Chi è sto coso che non vede? Che posso usare? Senti 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 Usiamo questo qua va Eh Si è fatto furbo Il piccolo Siete spacciati Lo devo ammettere Mi sta complicando un attimo le cosette Oh oh Che è? Perché mi è immobilizzato? No Mi è ghiacciato Pinsir No Basta Basta Il mio Pinsir Dagli le batoste in faccia Ehi Eh no Giovane Scusi Giovane Giovane C'è qualche problema qua Eh 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 Non si fa Ops Morto Eh Quando inizi a one shotare con bellosso Sono problemi Sono problemi Ops Morto Oh cazzo No Ops Morto Eh send a pokemon Ok Eh chi Chi mandiamo Chi mandiamo Chi mandiamo Chi mandiamo Lui Lui Sì 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 Mi piace questa scelta Mi piace questa scelta Ops No Maledetto Maledetto Mi vendicherò Mi vendicherò Eh Dai Dai bello Porca miseria Siamo messi un attimino Mele Vediamo se Una mossa di tipo Di questo tipo No 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 Siamo messi decisamente male Però io ho solo un pokemon morto Lui ne ha due Dobbiamo cambiare le sorti di questa partita Oh cazzo Eh Siamo messi tanto male No ragazzi Non posso perdere contro un siete spacciati selvatico Allora Dagli Dagli una botta va Che cavolo di po Oh Oh il panzone Il panzone si fa sentire Aia Oh Il panzone si fa sentire Aia Grande Grande Pansone Eh Sì Chi mettiamo Chi mettiamo Chi mettiamo E mo chi cazzo Spirita mi userà Proviamo lui Mo andiamo un po' a botta di culo Ok Ok Forse ce la posso fare Forse ce la posso fare Dai Dai E dai Scegli cazzo Beccati questo Sì E mo chi cazzo Vediamo Vediamo Lui Lui Perché se non ricordi Oh cazzo Oh cazzo Eh Vai Fai No Non edizione Dai Dai Ti prego Bella awesome No Sì 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 Zitti tutti Zitti tutti Che gliene da un'altra Gliene da un'altra Un'altra sbagli No Madonna mia Madonna mia Madonna mia Ti prego Ti prego No Cazzo No No Ehi Ehi Siete spacciati No Sfida epica 9 hp 9 hp 9 hp 9 hp Il primo che mena qua vince Ma ci sei Sì Cazzo vai Oh no 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 Non mi ha fatto usare la mossa No È passato il tempo L'ha fanculo No Crepa Ho vinto io Cesso di merda Cesso di merda Cesso di merda No ragazzi Sfida epica 9 hp Contro Il primo che Menava vinceva Va bene Ragazzi Io mi son divertito Troppo Ringraziamo Non siete spacciati Per Aver C'ha Well Alger Mi ha sfidato Ah ma è caduta la Vabbè Chi se ne frega Ragazzi Se vi è piaciuto questo video Lasciate un like Commentate E condividete Se siete arrivati a vederlo Fin qui Scrivete nei commenti Hashtag Sfida epica Hashtag Sfiga No Sfiga Ah Sfiga Con la G Di Genova Sfiga epica Sì ma perché Tu hai una sfiga Asservimento No Io non ho Cioè stavo pensando Che possa usare E' scaduto il tempo E non me l'ha fatta usare Vabbè L'avrei usata io Io prima E' più lento Snorlax Maledizione Ragazzi E' stata vinta E' stata una gara di velocità Questa Comunque Bellissima questa sfida Veramente entusiasmante Ci vediamo nel prossimo video Lasciate un like Commentate E condividete Vi ricordo Hashtag Sfiga Epica Sfiga Epica Ciao a tutti Ciao 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 a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti.